E' tutto pronto per l'edizione 2023 di Un Borgo di Cioccolato. L'evento più dolce dell'anno, organizzato dall'associazione Ente Fiera Fredda, si svolgerà presso Palazzo Bertello a Borgo San Dalmazzo l'11 e il 12 marzo. L'evento prevede la partecipazione delle associazioni locali, delle associazioni di categoria, oltre alle esposizioni delle opere in cioccolato, realizzate dagli amici del cioccolato e dalle scuole di arte bianca. Saranno inoltre presenti stand commerciali con prodotti di pasticceria. E sono poi in programma tante attività e laboratori. Quest'anno siamo alla 23esima Fiera del Cioccolato, sicuramente come amministrazione ci crediamo fortemente, tant'è che la cosa più bella per una manifestazione è aumentare i fondi. Noi abbiamo aumentato i fondi e abbiamo già dato che ne sono la possibilità di fare la manifestazione per più anni, quindi due anni di affidamento, tant'è che affidandola per due anni, il prossimo anno sicuramente si farà qualcosa di più. Quindi una bellissima manifestazione che riprende un po' il target ante Covid, quindi con anche manifestazioni all'interno del territorio comunale, con momenti di intrattenimento e di festa. Noi crediamo, visto che comunque il cioccolato è sicuramente una cosa buona, è una cosa che porta allegria, è una cosa che porta anche i bambini a fare festa a tutti. Quindi portando bambini, genitori sicuramente sia un momento di attrattiva per tutti. La fabbrica Bertello è stata una fabbrica, una volta si facevano libri, adesso si trasforma in una fabbrica di cioccolato. Siamo reddici da due anni, in cui un anno ci siamo proprio fermati completamente. Un anno l'abbiamo fatto in streaming, l'anno scorso ci siamo ristretti perché abbiamo condiviso lo spazio con un lab vaccinale e quest'anno vogliamo tornare a fare la manifestazione, come tutti si ricordano, bella con i laboratori, con i ragazzi, con gli studenti e con tante opere. La banca cerca di essere vicino a tutte le manifestazioni dei luoghi dove operiamo, quindi è un po' la nostra missione, quindi la fiera del cioccolato in particolare coincide con qualcosa a noi significativo perché è dall'anno che abbiamo aperto lo Sportella Borgo e è nata la fiera del cioccolato, è così, però sponsorizziamo anche altre cose.